Buongiorno cinici! La transizione green ci lascerà al verde? Caro bollette, giustamente vogliamo un mondo più pulito, ma la transizione ha un costo e qualcuno dovrà pagarlo. Chissà chi sarà questo qualcuno? Pensierino del giorno? Gli aumenti spropositati della bolletta energetica a cui stiamo assistendo, effetto secondario, sì, della transizione green, ma anche di un altro paio di cosette che approfondiremo nei prossimi video. La prossima primavera molto probabilmente ridurranno al verde qualche milione di italiani. Vuoi sapere in che modo? E' semplice. Ti spari la sigla nel mentre ti iscrivi al canale, mi clicchi sulla campanellina e poi lo scopriremo insieme. Come lo cominci un video cinico, sarcastico, distopico su un tema come questo? Transizione green, bolletta energetica. Vediamo. Ci sono. Immaginiamo una bella barca a vela, ancorata che so in una baia incontaminata, tramonto estivo, il sole si sta pigramente immergendo fra i pini silvestri dietro la scogliera, voi siete seduti sul ponte a conversare amabilmente con i vostri amici e amiche. In attesa di pregustare una bella cena a base di pesce fresco, vi state calando allegramente una damigiana di prosecco e, casualmente, quanto lascivamente, il vostro sguardo cade sulla generosa scollatura nella camicetta della vostra compagna. Nel mentre, però, laggiù, all'orizzonte, alle vostre spalle, non viste inquietanti nuvole grigie stanno montando presagio di tempesta in arrivo. La situazione attuale, per certi versi, a mio avviso, è simile allo scenario appena descritto. Come per i personaggi che tu ho appena descritto, infatti, non abbiamo percezione della tempesta che ci sta piombando addosso e siamo tutti qui sulla barca a conversare amabilmente. La tempesta consisterà nel fatto che facilmente entro la prossima primavera qualche milione di italiani si ritroverà letteralmente al verde. La transizione green ci lascerà al verde? Transizione green passa anche attraverso la bolletta energetica. Già la parola di per sé predispone un po' alla gastrite, vero? Il prezzo della bolletta energetica, luce e gas, sta lievitando come un panettone. Si parla nei prossimi due mesi di aumenti fino ai 30-40%. Mesi, non anni. Non vedevate l'ora, vero? Dai, lo so che non vedevate l'ora di ascoltare una notiziona così intrigante. Il mio cavo amico Walter, che saluto cordialmente, ama ripetermi che porto sempre buone notizie. Ebbene sì, un giorno vi annuncerò pure il diluvio universale. La transizione green ci lascerà quindi al verde? I prezzi di gas naturale, carbone, petrolio stanno aumentando senza controllo. Le materie prime sono misteriosamente scomparse, compresi molti prodotti agricoli di largo consumo. Le catene di approvvigionamento, le supply chain a livello globale sono in pratica al collasso. Sui motivi che sono l'origine di questi aumenti e sulle iniziative che si stanno adottando per poterli contrastare ne parlerò più compiutamente nei prossimi video. Oggi voglio provare a dipingere un quadro generale, uno scenario bello intriso di cinismo distopico. Il mio sarà, come sempre, un esercizio mentale. Poi nei commenti mi direte la vostra. Allora, che cosa potrebbe accadere? Potrebbe accadere, ipotesi personale ripeto, che entro pochi mesi, a seguito dell'impennata nei costi della bolletta energetica, si potrebbe tutti quanti scivolare allegramente in una bella crisi stagflattiva. La stagflazione è una fase del ciclo economico caratterizzata dalla stagnazione dei consumi unita a un aumento dell'inflazione, chiamata anche inflazione recessiva. Inflazione è la bestia nera dell'elite finanziaria di tutto il mondo. La stagflazione si traduce all'atto pratico un aumento costante dei prezzi, unito però ha una diminuzione progressiva nel potere di acquisto, con conseguente crollo dei consumi. Risultato? Quella che i tecnici chiamano la spirale recessiva. Questo aumento spropositato della bolletta energetica che cosa potrebbe comportare? Anzitutto un deciso aumento nei costi di produzione e distribuzione, costi che si rifletteranno sui prezzi di beni e servizi. Cibo in primis. Pensa per un attimo alla catena del freddo. Cosa potrebbe accadere a famiglie e imprese? Le famiglie, come prima cosa, cominceranno a tagliare i costi superflui, le spese dette voluttuarie, cinema, ristorante, teatro, apericene, abbigliamento, palestre, vacanze, pettinatrice e via discorrendo. Tutte le imprese, dal piccolo negozietto su strada ai grandi centri commerciali, agli studi professionali, alle industrie più o meno grandi, si ritroveranno a pagare il 30, 40, 50% in più di costi per la gestione della propria attività. Costi che comporteranno inevitabilmente un deciso aumento dei prezzi, a cui però non corrisponderà a un relativo aumento nel volume degli incassi. Anzi, al contrario, l'aumento dei prezzi contribuirà a spingere sempre più verso il basso i consumi. Spirale recessiva. Stiamo andando incontro alla fine della società iper consumistica? Stacflazione, quindi, logica conseguenza, perdita di competitività delle imprese, politiche sempre più pesanti di deflazione salariale, licenziamenti, delocalizzazioni, chiusura di attività. In una visione più ampia, direi che questa stretta sui consumi energetici caschi proprio a fagiolo, che sia anzi propedeutica al grande reset delle economie occidentali, come avevo già accennato in questo mio video qui qualche tempo fa. Siamo troppo energivori, consumiamo troppo, consumiamo male, sprechiamo troppo. Il tenore di vita medio dei paesi occidentali, in particolare quelli europei, deve calare drasticamente e in fretta. Questo per consentire ai paesi meno ricchi di poter crescere, mantenendo però invariato il consumo delle risorse ed evitare in questo modo il collasso del pianeta. Redistribuzione delle risorse. Nel frattempo i media si stanno già portando avanti con il lavoro, previdenti e professionali come sempre, è già iniziata infatti la prossima campagna di propaganda terroristica, che avrà come filo conduttore il clima, l'inquinamento del pianeta, le fonti energetiche. Ma soprattutto, novità autunno-inverno 2021-2022, la propaganda si concentrerà sui comportamenti green, sui comportamenti considerati virtuosi e quelli non virtuosi. D'altronde ci dobbiamo o no abituare al concetto di credito sociale. Non avrai un comportamento considerato green? Prima verrai etichettato o etichettata, denigrato o denigrata, poi verrai allontanato e stromesso dalla società. Green Pass, Docet. Il Covid, diciamolo, ormai ha fatto il suo tempo. Bisognerà avvivare la narrazione con qualcosa di nuovo, di fresco, di spumeggiante. The climate change, la propaganda del futuro. Concludendo, in questo video di oggi ho cercato di pingere un probabile scenario generale, cinico-distopico. Ma potrei sbagliare. Quella che ho descritto è soltanto una mia visione personale delle cose. Anzi, io spero vivamente di essermi sbagliato e di aver detto un sacco di fesserie. Nel frattempo, però, a scanso di equivoci, ho ordinato un bancale di candele e adesso, scusatemi ma devo uscire a fare scorta di legna, dicono sarà un inverno piuttosto freddo. Sai, il clima.